ed eccoci ragazzi dopo la notte passata da diego in tenda ovviamente oggi direzione passo gavia sperando che il tempo regga e ancora più in quadro sperando che il tempo regga il sole è timido oggi è via di passo gavia ragazzi eccoci qua però dal tempo sta reggendo speriamo che resti così strada un po' umidicia eccoci ora eccoci eccoci Grazie a tutti. 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 Uh, bello così, wow. Che spettacolo. Wow. Che panorama. Wow, spettacolo ragazzi. Wow. 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 Grazie a tutti.